fammi vedere i calzoni i calzoni ci ho fatto un paio di giri perchè se no non ci stanno assieme aspettiamo Giada, le donne si fanno sempre attendere è il momento... Giadina mamma mia mamma mia scalza un po' ok elegante ma selvaggia elegante ma selvaggia buonanotte, andiamo a dormire no? sognitoro seguitemi prego che insomma la stanchezza, il fisico insomma voi uomini avete avuto tutti dei problemi e mo Giadina è così però? si Giadino dopo il massaggio magari dopo la cena può essere che qualcosa si svegli poi se io non vorrei è però può essere perchè no? e sarei contempo? menù della serata cena stuzzichino zuppetta di patate profumata al tartufo antipasto strudel di caprino fresco con peperoni e aceto balsamico pasta primo strozza preti con asparagi bacon e pomodori freschi secondi piatti non secondo piatto secondi piatti sgombro dei caraibi in crosta di panco all'erba cipollina ma non dovete aspettare a me eh ma io l'erba ma per indicazione ma sicuro potete cominciare non dovete aspettare che io vi dica ma siete due persone libere cioè vorrei chiaro che con me presente avete l'angoscia ma questo che c'è fa? vi ho assicurato che non c'è 3,2,1 non ci sono secondi o minuti per mangiare come si mangia? eh eh buona eh? mamma mia non c'entra patatina proprio non c'entra si vuole molto caldo eh? mamma che bello molto 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 buono molto fine questi gusti era tanto tempo che non li sentivo cioè ho proprio il gusto i sapori forti sono molto raffinabili pur essendo caprino eccetera col peperone molto molto fine molto buono oh io sto mangiando piano eh vedi che non sto buffando piano piano però fatemelo maniare anche ma che dolce quelle sono fettine di prosciutto ma che dici? quelle fettine di prosciutto sono sono fettine di prosciutto se fuori cae ma perché non ci mettiamo dietro i fornelli e facciamo tu spaghetti eh? ma famoli sti spaghetti ti vuole che non ce l'ha Roberto? dai facciamo tutti gli spaghetti o il pomodoro o il bianco adesso vi dico non dovete prendere la cosa troppo